E' morto a 96 anni Enzo Garinei, attore di cinema e teatro, fratello di Pietro della celebre editta Garinei e Giovannini. Straordinario caratterista, ha lavorato in più di 70 film e partecipato a molte commedie teatrali. L'esordio nel cinema nel 1949 con Totò, uno degli ultimi impegni, la voce di Dio nel musical, la giugge un posto a tavola, storico successo scritto dal fratello Pietro con Giovannini. E per ricordare Enzo Garinei vogliamo riproporvi questo accurato invito a non vedere nell'altro un nemico, parole con cui iniziò lo scorso maggio una sua intervista qui a TV 2000, lo ascoltiamo. Siamo tutti fratelli, ricordatevi. Questo è molto importante. Non dimentichiamolo. Siamo tutti fratelli, amici. Dobbiamo ricordarcelo. Io me lo ricordo per 96 anni. Voi siete molto più giovani, ma ve lo dovete ricordare. Voi siete molto più giovani, ma ve lo dovete ricordare. Guai. Pensare che l'altro non sia un vostro amico. Mai. Mai.